Tutto il collegio è solo su RaiPlay, scarica l'app. Perché alla fine noi stavamo solo giocando. Ricordi quello che ti ho detto? Fai a modo e fai a modo con te. Non faccio quello. Che cosa hai detto? Tipo, se tu sei buono con me, io sono buono con te. Che c***o vuol dire? Se io decido di fare, se io faccio lo str**o, faccio solo i loro due nomi. Loro vengono cacciati e non ho bisogno che siano buoni con me. Ti non mi ha detto niente, io ho detto che devi far per bene. Non ti sapevo qualsiasi cosa dici. Ho paura che Luca possa parlare perché si è arrabbiato ieri sera. Però secondo me sbaglia a fare i nomi per una c***a del genere. Per me andare a fare i nomi per una c***a del genere... Signor Ziliana, resta qua con me. Luca, fai quel che ti senti. Però ti hai tutto in considerazione. Sì, ovvio.